Nel 1978 mio padre Giovanni Gerai con le spalle importanti esperienze come salto specializzato, modellista e responsabile tecnico per importanti nomi della confezione italiana, fonda l'azienda Carghera, che presto si specializza nel taglio conto terzi di qualsiasi tipo di capo, con particolare attenzione al taglio di righe e quadri per aziende di primo piano del settore. Dal mio ingresso in azienda negli anni 90 l'obiettivo primario è quello di porsi come un vero e proprio partner, infatti la filosofia si basa da sempre sul concetto di qualità totale. Ai clienti diciamo sempre consideraci una sede operativa della tua azienda, lavoriamo per te con la cura e l'attenzione che ci metteresti tu. Forniamo un servizio a tutto campo, gestione magazzino tessuti, stesura e taglio automatico per tutti i tipi di tessuti, in particolar modo righe e quadri e stampati, proseguendo con la soberatura, adesivazione e formazione pacco, tutto appoggiato da un ufficio tecnico per creare i piazzamenti e le stampe, sia su carta che su file. Oltre ad un'esperienza di più di 40 anni, la nostra forza è rappresentata dalla tecnologia all'avanguardia di cui disponiamo e dal personale qualificato che lavora insieme a noi come una vera squadra, perché siamo consapevoli che la tecnologia senza l'esperienza dell'operatore non porta a risultati soddisfacenti. Per gli investimenti effettuati, con lo scopo di mantenere un altissimo livello di tecnologia, non potevamo non inserire una linea di taglio FK Group. Per mantenere sempre un livello tecnologico elevatissimo servono partner importanti, per questo, quando c'è stata la esigenza di inserire una linea di taglio automatico, ci siamo rivolti a FK Group. La scelta tra le offerte del mercato è ricaduta su FK Group, per una serie di considerazioni. Tecnologie delle macchine, azienda interamente italiana, la forte e reale vicinanza alle esigenze del cliente, la straordinaria affidabilità delle soluzioni, l'efficienza delle apparecchiature e la bassa incidenza di costi di manutenzione. FK Group è realmente un partner affidabile che lavora a stretto contatto con il cliente per capire le esigenze produttive e consigliare la miglior soluzione per la sala taglio. Dopo l'installazione garantisce supporto e assistenza real time, che permette di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. È un'azienda proiettata al futuro, che cresce insieme a noi. A distanza di anni dall'installazione della freccia, non possiamo che riconfermare tutte quelle che erano state le nostre aspettative. Grazie. 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 Grazie.